Sono gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale che hanno a disposizione i candidati a sindaco per la città di Alessandria e arrivano naturalmente i BIG. Oggi, giovedì 26 maggio alle 18.30, ci sarà Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, arriverà in piazzetta della Lega per sostenere il candidato sindaco di Alessandria, Giorgio Abbonante, che è sostenuto oltre che dal PD anche da un'ampia coalizione del centro-sinistra. Venerdì 27 invece domani alle ore 11.30 del mattino in Via Dossena sarà presentata nei dettagli la convention di Forza Italia che si terrà il 4 giugno ad Alessandria e che vedrà la presenza anche di Silvio Berlusconi, fondatore e presidente di Forza Italia. Sarà in città in quell'occasione il 4 giugno per la convention L'Italia del futuro, il mondo è cambiato, ora deve cambiare l'Italia. Arriverà a sostenere il candidato sindaco del centro-destra Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Sabato invece alle 10.30 del mattino Pierluigi Bersani, fondatore di Articolo 1, sarà al Circolo Canottieri di Via Vecchia dei Bagliani ad Alessandria per un incontro con la lista abbonante per Alessandria. Sarà presente anche l'onorevole Alessandrino Federico Fornaro. Sempre sabato alle 16 arriverà invece Gianluigi Paragone di Italexit e terrà un comizio per sostenere il suo candidato sindaco Vincenzo Costantino in piazza Marconi ad Alessandria. Domenica mattina invece alle 9.30 sarà la volta di Gianni Barosini, candidato a sindaco per la città di Alessandria, per la lista azione di calenda e domenica mattina in cittadella presenterà tutta la sua squadra. Barosini chiamerà a raccolta tutti i candidati delle liste che lo sostengono nella corsa verso la poltrona di sindaco di Alessandria. Per il Movimento 5 Stelle l'appuntamento ad Alessandria è per domenica mattina 29 maggio alle 11.00. Arriverà presso lo studio Porto Idee in Via Verona 95 la senatrice Barbara Floridia, che è anche sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Istruzione. La senatrice è anche la delega alla transizione ecologica e culturale per le scuole e infatti incontrerà dirigenti scolastici, docenti, allunni e alessandrine per approfondire il tema rigenerazione scuola. Sempre per il Movimento 5 Stelle l'appuntamento clou sarà poi la prossima settimana, martedì pomeriggio. Arriverà il presidente Giuseppe Conte e sarà ad Alessandria sempre al sostegno del candidato sindaco Giorgio Bonante, candidato della coalizione progressista di cui fa parte anche il Movimento 5 Stelle. Per il candidato sindaco di Alessandria Angelo Mandelli, del Popolo della Famiglia, soggetto politico che fa capo a Mario Adinolfi, l'appuntamento è alle 18.30 in via del Vescovado d'Alessandria dove incontrerà il Vescovo di Alessandria. Inoltre si potrà incontrare il candidato sindaco Angelo Mandelli nei diversi gazebo posizionati in città d'Alessandria.